Ciao amici! Ciao ragazzi! Episodio Jujutsu Kaisen Episodio 20! Episodio 20! Allora! Siamo giusti? Sì, sì, sì. Ce l'ha rimasti con il lampo nero, ti ricordi? Era un lampo nero? Sì. Mi guardi male, mi metti confusione! No, perché mi sembra che è successo altro. Cioè, praticamente... Ah no, è giusto. Itadori e Todo contro il Hanami. Esatto, che ha scadiato il lampo nero potentissimo un'altra volta. Sì. Mi metti la confusione quando mi guardi. No, non so perché mi sembra che sia successo altro, però magari mi sbagli. C'è la cupola dove Goji non può entrare. Sì, certo. Dico dopo. No, non sembra, ma lo scopriremo. Comunque, iniziamo! Episodio 20 fuori dalla norma. E questo è Todo, o no? E questo è tutto. e capire chi è. E mi piace che iniziano a farci vedere un po' appunto anche gli altri personaggi. Il passato, sì. Todo poi tra l'altro è un personaggio che ha iniziato a ricerti particolarmente a te, quindi... Sì, dai. Sì, mi inizia a gasare. Penso che sei contento. Vai. E? Maio, uscate non c'era? Sì, non c'era. ah giusto il bravo qui diceva autoproclamato oh oh ho ho oh 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 sostituzione sostituzione riusci a sostituirsi al nemico mi ricordo mi sembra che nei sette c'era un uno dei comandamenti che lo faceva quello col baffetto ti ricordi quello che lanciava il fuoco riusciva a sostituirsi che quella volta c'era testa rossa che lo teneva così e lui si è sostituito a lui però io mi ricordo comunque è successo bella bella questa mi piace si interessante ah anche fra loro minchia bella no no RONDE KENTON ANAMI DETENTORE DEL RECORD DI ESECUZIONI COSSECUTIVE DEL LAMPO NERO MIGA E' FORTESIMO GRANDE 2 3 4 DI FILA 3 5 6 6 7 7 8 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 18 18 19 20 19 la c'è la basura non capivo detto ma cos'è si sono incontrati pure che bello che bello mi piace sta cosa è sveglio andè oh di Dio che male sì figo allarma minchia minchia in mano a todo aiuto oh mio dio grande occhio 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 oh merda adesso cosa succede mi dire che si ricarica con l'energia delle piante ecco oddio no oh merda oh merda meno male meno male se si espandeva il dominio è arrivato è arrivato il king che bello che è ha spaccato la barriera e poi sta volando ottimo è arrivato C'è questo? Scusate! Ho capito la scuola? Scusate? Scusate! Che bucsi! Cioè, appena sanno che può entrare il Gojo scappano Oye 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 oye! La fai a volare! Ma non è la prima volta che lo vediamo? È vero? Mi sembra, no, anche quando incontro Gogo Gogo, com'è che si chiama? Ho volato, ok Ma mi sembrava che comunque era per aria Pensavo fossero degli slanci, sai, ovviamente classici degli anime Ma quando gli ha fatto l'espansione del dominio a lui mi sembrava che era in aria Ma forse è il mio ricordo Forse perché era del suo dominio No, quando gliel'ha fatta Ah Prima di entrare nel dominio Boh, boh, boh Non va Però vederlo così fermo e che vu flutto ha fai fatto Cioè, cazzo cos'è? Dio, sai Qu'è? 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 Dio mio, cosa è troppo forte Qu'è? 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 Voleva appuntare o no al dito Forse era tutta una distruzione Forse c'è un dito da prendere Sì, sì, può essere Porca miseria Comunque ha detto espansione immaginale Ah, non espansione Ok Ok, un attimo, guardamolo solo lo sketch Oh che puntata ragazzi Mamma mia matoya Questa cosa che hanno tutti i cavi a di lui mi chiedo, ma c'è qualcuno che può affrontarlo? Forse solo Sukuna con tutte le dita? Sembra veramente di sì. Perché lui è il re delle maledizioni. Può essere. Inu. Ia. Neko. Inu. Eh, mi sono sicuro neko. Shouken. Eh, mi sono sicuro neko. Shouken. L'hai incazzato oggi. Simpatica dai. E voi siete team cani o gatti? Esatto. Vabbè. Comunque che rava, mi ha troppo casato. Che episodio, mamma mia, fighissimo. Bagliore blu, bagliore rosso, bagliore viola, bellissimo. Questa giornata la devo rivedere su YouTube, magari in italiano, vedo com'è in italiano. Che si inizia a caricare le due sfere lì, si mischiano e crea una roba incredibile. Pazzesco. Corri di testa bellissima. Comunque sì, sembrava, sembra che era tutta una distruzione per prendere il dito di Sukuna, che sono usciti a farlo e niente. Bomba di episodi. Alla fine ne hanno solo uno su quanti? 20? Sei ne ha già mangiati Itadori, perciò... Sei ne ha mangiati? Già, sei. Ah, non li ha ancora mangiati. Ne hanno sei però loro, mi sembra. Due ne ha mangiati o tre. Due o tre, hai ragione. Ok. Ehm... No, vabbè. Comunque sì, questa è una puntata veramente assurda. Che intensità. Mi piace, mi piace. Bella. Si vede un po' che sta arrivando il finale della season, comunque, che aumenta così l'intensità. Sì. Ah, comunque, riguardo al teletrasporto di Gojo, anche quello l'aveva già fatto contro Giogo. Ah, vedi? Che secondo me abbia fatto caso a due cose diverse. Sì, sì. Quando è andato a prendere Itadori, sì. Hai ragione, hai ragione. Quindi si teletrasporta e sa volare. Porca! Ma non a caso, comunque, gli spiriti qua maledetti hanno una paura assurda di lui. Sì. Hanno paura di affrontarlo, cioè è fortissimo. Sì. Ma poi ha ammazzato il tipo lì così. Cioè, non l'ha ammazzato, però gli ha tagliato le mani. L'ha tagliato, sì, quello sguardo, tipo. È troppo forte. Mi piace anche Todo che comunque si vede che ne sa di brutto. Lui è troppo nel terzo anno, mi sembra, no? Sì. Che aveva capito quello che sta facendo, comunque aveva intuito che stava arrivando ad un attacco molto potente, quello bello. Molto intelligente, eh, ragazzi, sul pezzo. Spero che ci faranno vedere un po' di più della tipa lì che ci ha fatto vedere all'inizio. Ah, sì. Che ha incontrato Kojo. Giusto. E sicuramente, cioè, secondo me non l'ha fatta vedere a caso, non la vedremo ancora più là. Bene, bene. Siamo gasati, penso. Sì. E adesso ci guardiamo al prossimo. Assolutamente. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Diteci la vostra, lasciate un bel like. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.